Ragazzi, ieri sera ho avuto la possibilità, grazie ai miei forti motivi da youtuber, di andare a vedere Barbie in anteprima. Io vi sconsiglio di andare a guardarlo, avevo un sacco di hype, lo ammetto, però ve lo giuro è noiosissimo, anche perché è totalmente diverso dai trailer che giravano. Io ho visto un sacco di trailer e clip su TikTok, o ve lo assicuro, non c'è un minuto in due ore di film in cui ci sia una clip di Subway Surfer, puntata di Griffin, posso ancora capire Holy Up, che è uscito da poco, però Cristo, se c'è sempre Subway Surfer in tutte le clip che ho visto, perché al cinema non c'era? Perché mentite così? Non buttate 6, 8, 9 euro, quel che siano, per vedere questa roba, perché io ve lo giuro, è inguardabile, vi addormentate nell'arco di 30 secondi, pazzesco.